La qualità delle soluzioni che produciamo e distribuiamo è un aspetto determinante nel nostro modo di interpretare il mercato dell'edilizia in legno. Per questo la merce in entrata viene sottoposta ad un rigido sistema di controlli, che si aggiungono a quelli già precedentemente effettuati dalle nostre produzioni. Dai lotti di merce in entrata i nostri addetti alla qualità prelevano un campione che viene sottoposto ad una serie di test e verifiche. Ogni confezione è contrassegnata da un codice di lotto univoco, in modo da poterne sempre garantire la tracciabilità. In seguito la merce viene portata nell'area per il controllo qualità, attrezzata con gli strumenti adeguati per lo svolgimento dei test su tutti i tipi di soluzione tecnica. Precisione e meticolosità, assieme a competenze specifiche, fanno sì che nessun aspetto venga trascurato. Gli scrupolosi test effettuati includono verifiche sulla geometria dei prodotti. Verifiche dello spessore del rivestimento. Test della rettilineità delle viti. Verifiche torsionali mediante chiave dinamometrica. Test sull'avvittamento dei fissaggi e molte altre verifiche a seconda dei prodotti esaminati. Accertata la funzionalità dei prodotti, il nostro addetto applica il sigillo di qualità, che certifica l'idoneità all'emissione sul mercato dell'otto esaminato. Questo processo di tracciatura e verifiche permette al nostro servizio di assistenza clienti di fornire risposte in modo rapido ed efficiente ad ogni questione legata alla qualità dei prodotti. In questo modo vengono garantiti i massimi standard qualitativi, perché quando si tratta di qualità puntiamo sempre in alto. Grazie a tutti.